Si vede chiaramente che i taxi arrivano e si fermano fuori dallo spazio consentito e cercano come questo taxi sta qua e anche con il taxi sta qua davanti adesso aumento bene il video si vede perfettamente che stanno fuori dallo spazio consentito e stanno raccogliendo i turisti, anche quello là in fondo che prima si era fermato e aveva lì lo stallo e adesso sta un po' più giù ecco qua e sta contrattando e se non ti va bene, è una tariffa allora non ricarica e adesso si parte avanti al collega, eccolo qua, è sempre quello di prima io non faccio le foto eh, ora, ora, lei non deve fare scopo no, non faccio le foto no, sta così, come io, e più va a parlare a chi è, che è del comune di Roma lei no, sono una c***a, non mi fa che la gente venga a dire eh, io che sono qui da che io venga a dire a lei quello quanto io ti ho dato la gente allora, lei deve applicare le tariffe normali io applico quello che cavolo voglio io applico quello che guido io perché lei mi viene a mangiare a casa mia o io vengo a mangiare tenersi alle tariffe assolutamente e non potete fare quello che state facendo perché ho truffa quello che state facendo no, fa lei no, no, io non faccio la scuola ma che fa, fa lei che paga mangiare i dati